Novo appuntamento con l'informazione di oggi a nord est da ieri all'opera un gruppo di lavoro costituito dalla regione Friuli Venezia Giulia lo scopo di analizzare approfonditamente la situazione sanitaria e specificatamente del covid in ogni comune della regione. I dati secondo quanto sia preso saranno poi esaminati in una riunione alla quale dovrebbe partecipare la governatore Massimiliano Fedriga che proprio in conferenza stampa aveva annunciato l'analisi del gruppo di lavoro. Se la situazione di alcuni comuni dovesse presentare forti criticità non è escluso che il presidente metta uno o più provvedimenti per limitare ulteriormente la mobilità in quelle zone allo scopo di frenare contagio. Lo stesso Fedriga aveva indicato come già critiche alcuni piccoli comuni della montagna della bassa friulana, delle valli del Natisone e località periferiche del Pordenonese e dell'Isontino. Sarebbero queste le aree oggetto del provvedimento. Da Roma è raggiunta la raccomandazione alle autorità sanitarie di Friuli Venezia Giulia Molise e Veneto di valutare l'adozione di misure più stringenti sulla base dei dati disponibili al 15 novembre e comunque precedenti agli ultimi dati che vedono in Friuli Venezia Giulia un'impennata dei contagi duemila in due giorni, dei decessi e soprattutto dei ricoveri. Stamane alle undici abbiamo raggiunto trecento ricoverati in terapia intensiva, l'emergenza non è finita anche se siamo in area gialla. Lo ha detto i giornalisti, il presidente del Veneto Luca Zaia, siamo ancora area gialla, ha aggiunto ma una grande preoccupazione, non siamo usciti da questo casino, sicuramente il sistema sanitario, l'organizzazione del lavoro dei sanitari permette di essere in zona gialla ma l'ordinanza sulle misure zona gialla plus verrà reiterata, ha concluso. In Veneto si registrano tre mila cinquecentos settanta nuovi contagi da coronavirus rispetto a ieri che portano il totale da inizio pandemia a cento diciannove mila settecento ventisei malati. I decessi salgono a tre mila cento novanta sessanta sette in più rispetto a ieri. Negli ospedali alle ore otto di stamattina si sopravano due mila seicentori covarati suddivisi tra area non critica e terapie intensive. Ancora da Trieste dopo tantadue anni l'ospedale Burlo Garofolo si allarga con l'acquisizione di tre edifici contigui per complessivi tre mila cinquecento metri quadri grazie ai fondi sette virgola due milioni di euro della regione. Nei tre edifici di proprietà dell'opera di San Giuseppe saranno trasferiti parte degli ambulatori, gli uffici amministrativi e tecnici e saranno realizzate aree d'attesa, ludoteche, appartamenti ad uso, foresteria e nuovi parcheggi. Un operaio di trentadue anni è morto in un incidente avvenuto in un'area di scavo mentre stava posando alcuni tubi fognari nel comune di Costa Bissara, Vicenza. La vittima stava lavorando assieme al padre con intorno alle dodici e trenta. secondo le prime informazioni è stato travolta da una massa di terra che era stata asportata per lo scavo. L'uomo è stato poi caricato dal padre su un mezzo e portato ad una vicina abitazione a Gambugliano dove sono sopraggiunti i vigili del fuoco. Allora arriva e era privo di coscienza ed è stato sottoposto a rianimazione cardiopolmonare fino all'arrivo del personale del suo con l'eliambulanza e un'ambulanza che hanno proseguito le manovre per lungo tempo. Nella tarda mattinata di oggi i vigili del fuoco del comando di Trieste sono stati allertati per la presenza di fumo su un tetto di un condominio di via Canova. Giunti sul posto la prima squadra della centrale, l'autoscale e l'autobotte sono stati impegnati con un principio di incendio della canna fumaria di un appartamento dello stesso. Il personale operativo provveduto al raffreddamento del camino era messa in sicurezza dello stabile. L'attività investigativa era partita circa un mese fa da alcuni furti consumati e tentati in abitazione del comune di Marostica, Vicenza. Da uno spunto investigativo nato nelle prime fasi dell'indagine, i carabinieri sono arrivati a pedinare alcuni soggetti che si trovavano a bordo di una Renault Clio. I militari su auto di copertura hanno dunque seguito gli spostamenti dei sospettati dal Bassanese alle province di Treviso, precisamente nel comune di Loria, dirigendosi in una zona di aperta campagna. I presunti i tre si sono fermati vicino ad un Audi Q3 e sotto l'osservazione dei carabinieri hanno rotto il vetro della portiera l'autoguidatore, si sono intruffolati all'interno dell'abitacolo, uscendono pochi secondi dopo per poi allontanarsi a velocità sostenuta con il bottino, una borsa con all'interno medicilali molto costosi documenti ed effetti personali. Cambiamo argomento, è stata una festa della Madonna della Salute a Venezia, quella di quest'anno, che causa pandemia non ha visto il tradizionale ponte votivo e la folla di fedeli in basilica. Il significato religioso della ricorrenza però è rimasto intatto. La pandemia da Covid-19 ha travolto le nostre vite a livello familiare, economico, sociale e la stessa celebrazione di questa festa ne è stata condizionata, ha sottolineato il patriarca Francesco Moraglia nella sua omelia. Ciò fa tornare all'essenziale, alle motivazioni iniziali di queste celebrazioni. Sul Friuli, Venezia, Giulia, cielo in prevalenza sereno, poco nuvoloso per velature domani, con probabili gelate notturne anche in pianura e sul Carso, Triestino, oltre che sulla zona montana. Sulla costa del mattino soffierà Borino, poi in calo, in giornate in quota sarà un po' più umite con inversione termica nei bassi strati. Le temperature in pianura, minime meno tre più uno, massime dieci, dodici gradi, sulla costa minime da tre a sei gradi, le massime sempre da dieci a dodici gradi centigradi. Passiamo al Veneto, cielo poco nuvoloso, sereno, per numi medio-alte, un po' più significative dal pomeriggio, non escluso qualche locale, banco di nebbia in pianura nelle ore più fredda, assenza di precipitazioni, temperature in montagna prevalentemente in aumento, in pianura massime senza notevoli variazioni, minime in ulteriore diminuzione, con valori diffusamente inferiori a zero sulle zone interne. Previsioni a cura di ARPA FWG Meteo e di ARPAV, agenzia regionale per la prevenzione e protezione ambientale del Veneto. Per il momento dal nord-est è tutto, appuntamento alla prossima edizione. ione.